Edder, Mech, Pallister In via Costamezzana a Santa Margherita Ligure, un uomo di 35 anni è stato tristemente ucciso con una coltellata da un vicino di casa di 55 anni. Secondo quanto riferito, la tragedia si sarebbe verificata al termine di una lite condominiale, intorno alle 22. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia locale, che stanno effettuando le indagini del caso. Il colpevole, invece, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna e adesso è sotto interrogatorio. Prima dell'omicidio, i due sarebbero stati visti litigare davanti agli occhi di altri condomini. I soccorritori, purtroppo, non sono riusciti a salvare la vita della vittima, che è deceduta sul posto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ander Metallister!